Buongiorno, sono Arcadius e siamo a Levico Terme, un posto particolarissimo che di l'acqua ne sa qualcosa. Infatti abbiamo una pioggia che da due settimane è con noi e pare che ancora per due settimane circa ci sarà. Ma l'acqua è un fattore purificante, l'acqua è un fattore molto importante perché annuncia la primavera. Senza l'acqua non c'è vita, ma anche Giovanotti diceva, anzi cantava, piove, senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù. Ma oggi siamo il 4 di marzo e qua nel Giardino delle Memorie c'è un quattro straordinario che pochi conoscono, pochi sanno. Eccolo qua, il 4. Ma cosa vuol dire 4 esattamente? 4 già dal Medioevo era un numero considerato perno e risolutore. 4 sono infatti i punti cardinali, venti principali, le stagioni, le fasi lunari. E infatti 4 sono anche le pareti della casa. 4 è un numero fondamentale. Infatti guardate anche questi magnifici piedestalli di Madmo dove manca un perno. Evidentemente c'era qualcosa qua che si apriva. 4 marzo è un numero che apre la porta della primavera. A presto! Ciao! Ciao!